Torna al successo la fortitude agrigento nella quarta giornata della Lega 2 Silver. Dopo due sconfitte consecutive, il quintetto di coach Francociani batte nettamente l'ultima della classe, l'Aliomatic Group Bari, 84-61. Partita dominata fin dai primi minuti da Mokavero e compagni. La formazione pugliese, senza elementi di spessore e con tanti giovani nel campo, ha fatto il massimo per contrastare i bianco-azzurri. Il match è stato caratterizzato da un altissima percentuale di errori al tiro e di passaggi sbagliati. Il primo quarto è di Chiara Marca Grigentina, con una superba prova del collettivo dove spiccano le giocate di Piazza, Mian e Chiara Stella. La fortitude chiude in crescendo e fissa il punteggio sul 18-12. Ottimo Bari nel secondo quarto, Monaldi e Jovanovic mettono in apprensione la difesa di casa. L'Agrigento è però squadra fin troppo esperta e riesce a non far tornare in partita il quintetto di Francesco Rao. L'americano Quanevan inizia a fare la differenza del tempo, si chiude 20-18 e all'intervallo è 38-30 ancora per l'Agrigento. Il ritorno in campo della fortitude Moncada è pressoché perfetto. La squadra di casa, trascinata da un superlativo Fabio Mian, dilaga e tocca anche un vantaggio di 23 punti. Bari crolla sotto i canestri della fortitudo. Segnano un po' tutti anche dalla lunga distanza. La difesa del Bari è fin troppo vulnerabile. Il terzo tempo si chiude 24-12 ed è 62-42. L'ultimo quarto è velocissimo ed è il più ricco di canestri. Quanevan, delizia il pubblico con giocate da NBA. Agrigento non stacca mai la spina e si porta avanti anche di 25 punti. Soltanto nel finale, spisso e di donna segnano i canestri dell'orgoglio barese. Ma la rimonta non c'è. Il quarto tempo termina 22-21. Agrigento vince in scioltezza 84-61 e scaccia via la crisi dei risultati. Per Bari è la quarta sconfitta di fila.